salve amici oggi abbiamo a disposizione un alimentatore switching impariamo a conoscere e riconoscere i componenti con i quali è costruito la conoscenza approfondita di questi componenti ci aiuterà enormemente nella risoluzione dei problemi nella ricerca guasti e nelle eventuali riparazioni iniziamo dall'ingresso questo è il connettore dal quale entra la tensione di rete incontra subito questo componente vi faccio vedere frontalmente come come è fatto questo è un esempio è un varistore in questo caso da 275 volt qual è la sua funzione è un elemento sacrificale del circuito funziona per proteggere il circuito dalle sovra tensioni quindi se arrivasse una tensione superiore a quella di rottura che per esempio in questo caso è da 275 volt probabilmente lo è anche per questo perché questa è la tensione che normalmente viene utilizzata per i componenti a tensione di 230 volt quindi dicevo quando arriva arrivasse una sovra tensione superiore a quella indicata dal componente il componente andrà in cortocircuito si distruggerà e farà saltare il fusibile di protezione che si è situato a monte di esso sarà facile riconoscere questo guasto perché il componente si presenterà annerito probabilmente spaccato quindi sarà chiaramente visibile molto probabilmente non ci sarà necessità di provarlo si vedrà che qui ci sarà stata una fiammata e troveremo questo componente distrutto la sua sostituzione insieme ovviamente al fusibile che sarà sicuramente saltato potrebbe se il guasto è dovuto a una sovra attenzione risolvere il problema dopo incontriamo un filtro antidisturbo che è costituito da questa doppia bobina e da questi condensatori cosa fa questo filtro siccome gli alimentatori switching lavorano a frequenze dell'ordine di 10 delle decine di kilohertz impedisce che eventuali residui rientrino sulla tensione di rete quindi agisce soprattutto per i rumori elettrici che genera l'alimentatore stesso e quindi non tanto per prevenire che i rumori entrino verso l'alimentatore piuttosto per evitare che escano dall'alimentatore switching questi due condensatori sono di filtro insieme appunto a questa doppia induttanza di attenzione sono di classe x2 vedete che c'è scritto qui x2 cosa vuol dire vuol dire che sono idonei a lavorare in parallelo alla tensione di rete perché hanno una tensione di prova elevata nel caso della x2 la tensione di prova è di 2500 volt inoltre in caso di perforazione dell'isolante non vanno in cortocircuito ma sono per così dire autorigeneranti quindi non esplodono nel caso di cortocircuito ok quindi una loro eventuale sostituzione va fatta esclusivamente con la stessa classe di indicata sul componente quindi x2 o x1 che è superiore come classe la x1 arriva a 4 kV di tensione di picco di prova questa resistenza che in parallelo a questo condensatore serve a scaricarlo velocemente quando noi estriamo la spina dalla presa perché se se in avvertitamente toccassimo i puntali della spina prenderemmo la scossa per la carica residua in questo condensatore questa resistenza che in genere elevato di valore elevato e questo è da 1,5 mega ohm non fa altro che scaricare il più rapidamente possibile questo condensatore dopo troveremo il ponte raddrizzatore in questo caso è piccolo perché questo alimentatore switching è di bassa potenza potrebbe essere più o meno grande in base alla potenza complessiva dell'alimentatore dopo il ponte raddrizzatore troviamo una resistenza in questo caso una resistenza ceramica verticale cosa vuol dire verticale questa è del tipo orizzontale in cui i piedini escono uno da una parte e uno dall'altra in questo caso entrambi i piedini fuoriescono verso il basso e quindi è saldato direttamente sul circuito stampato è una resistenza di basso valore ohmico può questa saltare in caso di problemi a valle di essa e quindi è un componente che dobbiamo controllare inoltre a cosa serve questa resistenza serve innanzitutto alle metà a limitare la corrente iniziale di carica del condensatore principale questo è il condensatore principale dell'alimentatore switching perché gli alimentatori switching a differenza degli alimentatori lineari funziona in questo modo la tensione di rete viene immediatamente raddrizzata e filtrata da questo condensatore infatti la tensione di lavoro di questo condensatore è elevata sarà almeno 400 volt 400 450 volt potreste trovarlo gonfio quindi rigonfio nella zona superiore se il condensatore è andato in perdita e mi raccomando sostituitelo eventualmente con uno con tensione almeno pari a quella indicata perché vi dicevo la tensione di rete 230 volt per 1,4 perché c'è il raddrizzamento a doppia semionda sul condensatore avremo una tensione livellata di 300 di 320 volt continui quindi attenzione che è una tensione molto pericolosa dopo questo condensatore troveremo delle resistenze queste in questo caso sono da un watt possono essere più o meno grandi che tendono a bruciarsi queste sono le resistenze di startup per così cosiddette perché forniscono l'alimentazione al circuito che si occupa della modulazione di ampiezza degli impulsi e quindi diciamo quando l'alimentatore è spento gli forniscono la tensione per mantenerlo acceso in questo caso siccome abbiamo un alimentatore switching di bassa potenza il circuito integrato e il transistor di potenza che controlla il primario sono integrati in altri casi potremmo avere il circuito integrato di controllo e nelle sue immediate vicinanze comunque vicino alla zona del primario un transistor mosfet di potenza spesso su aletta di raffreddamento montato nelle sue vicinanze questo è il trasformatore switching un trasformatore switching è più piccolo di un trasformatore lineare perché funziona a frequenze superiori dell'ordine delle decine di kilohertz siccome il nucleo ferromagnetico dei trasformatori è inversamente proporzionale alla frequenza di funzionamento a parità di potenza un trasformatore switching sarà più piccolo rispetto a un trasformatore lineare in genere i trasformatori switching hanno più secondari perché vengono prodotte più tensioni qui vediamo almeno 1 2 e 3 dio di questo più piccolo in basso e forse anche qui c'è un circuito integrato con un condensatore vi ricordo che stiamo facendo tutto senza avere lo schema elettrico quindi sto intuendo come costituito cosa cosa può come può funzionare questo trasformatore in base all'esperienza quindi poi lo vedremo lo verificheremo quindi abbiamo qui questi diodi che vanno controllati perché sono soggetti a rottura poi qui abbiamo due circuiti integrati che sono gli stabilizzatori di tensione generati dalle tensioni raddrizzate dei diodi e filtrate dai condensatori e poi vi do un consiglio leggete sempre quello che c'è scritto sul circuito stampato spesso ci sono indicazioni utili per esempio qui ci sono scritte le tensioni che escono da questi piedini quindi questo può essere molto utile nella ricerca guasti perché sapremo che tensione aspettarci quindi se per ipotesi su questo piedino dove c'è scritto che usciranno 5,6 volt me ne trovo due è chiaro che ci sarà un problema su questa tensione e poi rivoltando il circuito stampato andremo a seguire su quale componente arriva questo piedino e potremo diciamo in qualche modo limitare la zona di ricerca del guasto adesso rivoltiamo il circuito e osserviamolo dalla parte delle piste vi faccio osservare subito che la zona a tensione di rete che è questa interessata da tensioni elevate vi ricordo che sul connessatore ci sono almeno 320 volt è ben separata dalle piste del secondario dove ci sono le tensioni più basse vedete quanto spazio c'è sulla vetronite? proprio per separare e evitare scariche elettriche verso la parte in bassa tensione anche il fotocoppiatore è ben separato tra primario e secondario spesso gli alimentatori switching nella parte a tensione elevata presentano queste zone annerite sono i depositi carbioniosi dovuti alla polvere che viene carbonizzata nel tempo dalla tensione elevata la possiamo pulire semplicemente con un vecchio spazzolino da denti e questo ci può essere utile anche per le misure che faremo successivamente con il tester per avere una zona più pulita inoltre dobbiamo controllare attentamente le saldature sul primario del trasformatore sul condensatore principale e sul ponte reddrizzatore perché facilmente si degradano o comunque si degradano prima delle altre saldature quindi verifichiamole e nel dubbio le possiamo rifare va bene per oggi è tutto nel prossimo video vedremo come controllare le tensioni del alimentatore switching grazie, arrivederci grazie a tutti